ciao a tutti siamo a puket town alla rotonda del mercato esattamente di lì va il mercato noi siamo qua al puketik che ne aprirà un altro attaccato vedete qua la famosissima gelateria oltre che a bar, coffee e tutto però qua fanno i secchi di gelato e da moreno il mio ristorante quando vengo a puket town andiamo a fare una pasteggiata al mercato faccio vedere com'è a puket la domenica sera maretti, barrettini caffè quasi tutti aperti quasi anche qui con live music c'è una galleria d'arte kim's massage questa è una catena massaggi che di la vedete qualche barrettino che di la su guai la parrucchiera c'è un bar c'è un bar oscuro c'è un belus come se riusciamo a andare di là che parrucchiera c'è un bar è un bar caffè caffè altra giovanteria l'altra giovanteria questo è il bar che fa angolo dove c'è il mercato è qua il mercato la via del mercato il cantante magari da rivedere la gente che c'è un pago di cazzini qua sono delle bellezze asiatiche mi ha affollato ragazzi avendo proprio di tutto qua da manzare qui grilled fish cakes questo è interessante è pesce grigliato ma che roba ecco vi ricordo che c'è solo la domenica pomeriggio di seraco ma c'è veramente un sacco di gente che c'è solo la domenica pomeriggio di seraco ma non è vero grazie 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 la gente è stata un'estima stuendo un tesser è un ovo di quaglia è una famigliola Mario c'è più di uno faccio un trio faccio un trio vediamo cosa hanno da dire si iniziano un po' impazzate 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 e sulle note di mamma mia ci addentriamo ancora nel mercato un po' impazzate un po' impazzate ah quella pannocchia grande va bollita perché avocado un po' impazzate un po' impazzate qua si respira un po' dolcetti dolciumi riparazione dei dolcetti un po' impazzate che si prepara un po' impazzate di carne di pesce cosa interessante vedete una spesa di hot dog però guarda di sfoglia wow guarda di mangiare vediamo fino a 6 romani e la prosegue andiamo a vedere che movimento che c'è sui romani un po' impazzate ha fatto il film tra cielo e terra Oliver Stone nel 92 ah io ho visto sia Oliver Stone che tommi lì giù scuola che bello calini wow che c'è la terriere con me di scrim perché diceva che le gelaterie non c'erano più a Phuket cioccolato qua cioccolato qui sulla vespa fa i cocktail che c'è Sì, noi c'è qua. Conchiglie. Monone conchiglie. Questo invece deve essere un ambientalista. E qua arriviamo sulla strada normale, dove c'è il Tempio, dietro a tutto. Ragazzi, che bello. Ok, vi saluto. Ciao a tutti. Bye bye.